Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo un video speciale con il nostro uomo delle pulizie, cioè saggio, no, sagittario, no no no, sagittario, sì, sagittarius. Ma come? Io l'ho preso perché erano saggio, cioè se intendiamo dire saggio nelle pulizie, quando io praticamente sbavavo, questo qui lo ripuliva con una lingua. Cosa cazzo? Non sono gay come voi due che fate la gara a Chialano più grande. Cosa cazzo? Guarda che sono stato io a darti il pane sporco, e prenditi dalle strade quando faccio vinculare dalla gente nella tangenziale. Ti ho preso io come uomo di pulizie, proprio perché avresti scopato bene con il mio segretario gay, che mi fa le faccine dolci, a me. E sei stato preso per questo, soltanto per questo. O rettile, guarda che sono venuto a fare il segaiolo nel tuo canale, solo perché faceva pena con te e il tuo frucio Dynamic, ah già, pure tuo fratello Company, che ti riscaldava il culo facendoti compagnia e chissà cosa altro ti faceva. Cazzo smettetelo a voi di divere dalla tela al biberon, perché se no, poi, a voi vi inizia a chiamare bibbieri. Cazzo, a quel fottuto di un dinosauro, cioè no dinamico, ops no, assi Dynamic, in tre parole, ti vorrei dire. Sei solo un pedofilo, di cazzi corti, almeno cercati delle belle fiche, o ragazze belle. Ops, ma di parole ne ho già dette 23, ma non fa niente voi spazzature pulite non vi offenderete perché siete della merda in scatolata. Ok, ora basta. Basta dire cazzate senza senso, cioè ne abbiamo dette davvero tante, quindi forse è meglio continuarle a dirle, xd xd. Voglio solo dire una cosa, in confronto a questi due nadi, io sono professionale anzi no, non due ma bensì tre, incluso compagnia, company, professionale in cosa voi direte, non in giochi ma in sex, hard sex, very hard sex, very very hard sex. Basta sparare la sborra nei culi dei altri, saggio, cioè sagittario. Ma vaffanculo vai. Ma comunque, ritornando allo spazio, cioè, dal saggio volevo dire, che è un esperto gamer come me, ma allo stesso tempo è anche Naboo come Dynamic. Cosa cazzo? Io non sono Naboo. Comunque, dopo queste ultime parole di Dynamic, chiudiamo il video, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Rector. Ciao a tutti, spazzature da Sagittarius. Ciao a tutti, dal mitico Dynamic.